Grazie Non ti voglio più far soffrire, che tutto può tornare come prima, mamma Cosa intendi dire come prima? Cioè, no, come prima, quando, quando non era successo niente Niente torna mai come prima Le cose lasciano sempre il segno Sempre Allora quello che è successo tra me e Giuseppe non si cancella più No, no, quello si deve cancellare Allora Giuseppe deve ritornare qui Perché? Come ti permetti? Perché dici questo? Perché se tu mi mandi via lui mi cercherà E se tu lo mandi via io lo cercherò Se invece resta a casa e tu lo lasci venire Non succede niente, te lo giuro Non voglio giuramenti E che cosa vuoi? Voglio che tu mi guardi negli occhi Ecco, ti sto guardando Va bene Va bene, Graziella Decido di fidarmi di te E lui? E lui? Lui deciderà come vuole Clicco di studio E lui? Loavin E lui? Non ho mandato Grazie a tutti.